ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video finalmente torno a pullare io nel mio account sembra passata un'eternità oggi piccola come possiamo dire piccola marachella che vado a combinare provo a prendere la c2 di ayaka col fatto che purtroppo la oyoverse in questo mese è ferma per problemi che non riguardano noi in primix ma dovuti alla situazione covid purtroppo in cina ho detto ho delle prime genza a parte voglio fare questa mattata amo ayaka sì e allora oggi provo a fare la c2 sono a pt54 in questo momento col 50 e 50 ho la c0 quindi devo trovare due copie la troveremo io spero spero perché insomma è un personaggio che uso e ci tengo particolarmente quindi incrociamo le dita rimanete con me e lo scopriamo insieme la prima multi andiamo a pt64 forza ok grazie grazie forza da pt54 a pt64 vabbè se l'ho perso almeno non ho fatto un pt intero va bene va bene va bene va bene va bene a parte gli scherzi se l'ho perso non ho fatto un pt intero se ho trovato la prima yaka va bene comunque ora siamo a pt54 questa è la 55 56 che cing va bene va bene va bene mi sono solta dubbio magari c'è un altro 5 stelle ok questo è uno due tre quattro 5 6 7 8 perfetto ho il primo garantito raghi andiamo questo è pt9 abbiamo il garantito ora eh ok poi abbiamo pt10 poi andiamo di molti e pt10 perfetto da adesso si torna al discorso delle molti quindi andiamo a pt20 e così via allora forza e coraggio da pt10 andiamo a pt20 quattro stelle ok ok meglio di un pg perchè pg li ho tutti c6 mentre le armi alcune ovviamente le devo ancora rifainare al 5 quindi forse è meglio le armi per me dei pg in questo momento no no io le armi non le butto poi molti le armi anche molti fortunata sapete quindi a me va benissimo se vedo questo sono più contenta forse se mi esce una saio e una rosaria perchè le ho già bene siamo adesso a pt20 andiamo a pt30 pt30 4 stelle dammi un'altra arma dammi un'altra arma su su razor ci sei una vita fa comunque si ho tutti i 4 stelle ci sei razori ok doppio razor vabbè un po' di style glitter un po' di style glitter non fanno mai male perfetto andiamo a pt40 sì pt40 allora ha vinto il sì direi vediamo dov'è 31 32 33 34 35 razor 36 37 38 era l'ultima 39 eccolo la c1 la c1 la c1 è arrivata a casa pt39 la c1 pt1 pt1 andiamo a pt11 dai pt11 4 stelle 4 stelle una rain slasher un'arma fortissima bellissima utilissima no per niente per niente proprio ma va bene una super arma una super arma che volevo tantissimo vediamo vediamo ok 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 21 mai dire mai oddio per un attimo per un attimo avevo visto una una lucina un po' così ho detto ma sai che ma sai che invece no va bene va bene ci sta ci sta vediamo se c'è il 4 stelle eye of perception altra arme bellissima utilissima fichissima e via regando che non esca la de bell andiamo a pt31 paurissima no niente de bell ok ora vediamo vediamo pt31 vediamo se arriva la de bell paura rosaria ok ok rosaria rosaria questa era la rosaria multi ma ma che senso ma che senso ma che senso ma che cosa vuol dire coraggio da pt31 ne ha pt41 prima questa multi ci ha portato fortuna dammi un'altra iaca pt41 no quattro stelle ok se arriva un'altra rosaria ho paurissima un'altra rosaria un'altra rosaria un'altra rosaria un'altra 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 ok andiamo a pt51 quindi da pt41 andiamo a pt51 quattro stelle vediamo 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 il razor e spero di nuovo amo non lo voglio sapere ok pt61 aiuto 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 vabbè dai allora vuol dire che anche se perdiamo ho le primo per arrivare alla c2 e questo è buono questo è buono quindi anche se perdiamo sono comunque contenta però vediamo quindi questo è 52 uguale a prima uguale a prima identico a prima nooo ma questa è bellissima sta roba no a parte gli scherzi è bellissimo la stessa singola la seconda della multi bellissimo bellissimo allora adesso si riparte ma è prima si va a otto uno è uguale a prima due aiut perception tre no vabbè sto volando quattro cinque uguale a prima sei sette otto esatto siamo a pt8 pt9 e poi facciamo la pt10 poi di conseguenza tiriamo le multi pt10 perfetto siamo a pt10 adesso andiamo di multi quindi da pt10 andiamo a pt20 ok ok allora razor vediamo se c'è altro a pt20 a cui siamo ora a pt30 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 quattro stelle c'è c'è altro saio oggi tutte multi con doppio quattro stelle uguale saio 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 dei poi pt40 questa è la multi dove prima abbiamo trovato a yaka pt40 quattro stelle quattro stelle saio ce n'è un'altra c'è un'altra saio qui giusto per intendersi no c'è il razor c'è il razor c'è il razor ci sono loro due in coppia ok e allora go pt50 eccola no vabbè no vabbè eccola allora aspettate 41 42 43 44 saio 46 47 48 49 come prima ma è tutto un plot twist 49 come prima è tutto scriptato oh mio dio ci stanno osservando così 50 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 40 Grazie a tutti.